Il video delle buche, anch'io ho avuto un problema con buche, ho rotto gomme del Papa Mori, infatti c'è anche canzoncina che fa la macchina del Papa ha un buco nella gomme, per fortuna che ho risolto il problema delle gomme, perché sono andato da gommista nel Vaticano, c'è proprio gommista dentro il Vaticano, come si chiama il negozio? La Sacra Rota Allora, approfittiamo questo punto, intanto seguite Buccio sulla sua pagina, approfittiamo, lui ce la concederà, perché a di Roma noi saremo al teatro a ottobre, teatro Tirso dal 24 al 28 ottobre, è uno spettacolo che dura 4 giorni, lo spettacolo lunghissimo, porteremo anche l'altro fratello, se gli va, non lo so, Ogni tanto ci stacchiamo, allora lo dico, l'altro fratello è il cane, eccolo qui, no non c'è, noi ovviamente eravamo venuti qua, ho il piacere di vederti, di ascoltarti e di apprezzare Uccio De Santis Grazie mille, grazie, grazie, grazie a tutti di voi, Uccio! Grazie Uccio! Grazie a tutti!